Canegatini Bagni e Stop Bullismo e Cyber Bullismo, il via è il progetto dedicato agli studenti del liceo scientifico e della scuola media. Ha preso il via giovedì 24 marzo il progetto Stop Bullismo e Cyber Bullismo presentato dall'avvocato Rosalia Johnfrid della Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le relazioni familiari ai minorenni e finanziato dal comune di Canegatini Bagni nell'ambito del bilancio partecipativo 2019. Il progetto rinviato nella sua attuazione per l'emergenza Covid è indirizzato in una prima fase alle classi prima e seconda del locale liceo scientifico Leonardo da Vinci, mentre in una seconda fase dopo la pausa pasquale sarà rivolto, concordandolo con la dirigente scolastica, agli alunni della scuola media dell'istituto comprensivo Verga. A concludere il progetto sarà un evento aperto al pubblico con la partecipazione di docenti e genitori che si trareranno nell'aula consigliare di via Principessa Yolanda. Giovedì l'apertura è stata dedicata al tema del bullismo con la relatrice avvocata Rosalia Johnfrid. Unedì 28 marzo si parla invece di Cyber Bullismo e pericolo in rete con il dottor Marcello Labella, primo dirigente al Dipartimento Polizia Postale di Catania e educazione civica digitale a cura dell'avvocato Ilenia Azzoppardi. Lunedì 4 aprile sarà la volta di quando dal gioco si passa al reato con relatori gli avvocati Olga Diamante e Marco Galati e la nuova legge sul cyberbullismo a cura dell'avvocato Maria Barbara Giardinieri. Infine martedì 12 aprile i temi saranno mediazione a scuola con l'avvocato mediatore scolastico Elisa Sapienza e le relazioni nel gruppo classe, aspetti psicologici a cura della psicologa, dottoressa Chiara Buonfiglio. Dopo questa fase di approfondimento il progetto vedrà l'ausilio di peer educator, alunni del liceo scientifico che dimostrati sensibili al problema saranno rafforzati nella formazione per accedere alle classi della scuola media dove si cimenteranno nella formazione dei pari. Il progetto per la sua importanza sociale e risvolto ai dannosi che bullismo e cyberbullismo possono avere sui minori ha tutta l'attenzione dell'amministrazione comunale di Canigattini e Bagni e rappresenta un primo step di interventi futuri come hanno sottolineato il sindaco Marilena Miceli e l'assessore alla pubblica istituzione Mariangela Scirpo. Un fenomeno sociale e danni di altri ragazzi coetanei hanno ribadito il sindaco Miceli e l'assessore Scirpo al quale non ci si può sottrarre. Secondo i recenti dati delle Nazioni Unite uno studente su tre tra i 13 e i 15 anni ha vissuto esperienze di violenze da bullismo e cyberbullismo azioni che se non attenzionate e contrastate hanno effetti dannosi sull'apprendimento e sul comportamento dei minorenni con effetti negativi che possono avere ripercussione fino all'età adulta.